Salve a tutti sono Daniele Mammarella e ho fatto una scoperta sensazionale in questa quarantena ho scoperto di avere un bosco davanti casa ebbene si sapete in tutto questo tempo la prima cosa che facevo per fare i miei video era prendere la macchina e andare il più lontano possibile da casa ho scalato montagne tra l'altro una volta con le scarpe con la suola liscia ed era tutto ghiacciato quindi l'ho fatto in ginocchio e sono tornato a casa senza le ginocchia però sapete ho esplorato foreste ghiacciai, cavalcato draghi no a parte gli scherzi tutto ciò mi ha fatto capire quanto può essere bello ciò che abbiamo vicino ripeto, ho scoperto di avere un intero bosco con tanto di fiume qua davanti comunque, bando alle ciance questo è Dennis Blues dal mio album Pass, Presente e Let's Hope per voi grazie a tutti 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 saluto a tutti eccolo grazie a tutti